Noi l'abbiamo definita una vera e propria doccia gelata, perché è chiaro che noi non vi aspettavate che ieri, giorno del Venerdì Santo, vi arrivasse a casa la lettera di licenziamento. Sì, nessuno si aspettava una cosa del genere in realtà, anche se c'erano dei pensieri. Però diciamo che la società, ancora non abbiamo capito di che cosa stiamo parlando, perché la società naturalmente poteva evitare anche il discorso di mandargli il Venerdì Santo o aspettare addirittura il 31 che c'era la riunione a Caltanissetto in prefettura. Quindi ci sono diversi punti che bisogna chiarire, anche perché la nostra società, o ex società, ancora non sappiamo in realtà come la dobbiamo chiamare, ha avuto anche un lavoro dalla raffineria e di conseguenza dobbiamo capire anche se lo deve fare questo lavoro o meno. Poi ci sono altri tassi che dobbiamo vedere, cioè dire il discorso del non presenza dell'amministrazione comunale, non invito della Regione addirittura, perché la Regione dovrebbe essere là venerdì e invece tutto questo non c'è. Allora, signori, cerchiamo di svegliarci e unirci, soprattutto per il nostro territorio, e fare qualcosa di serio. Una Pasqua amara per tutti voi? Troppo amara, perché poteva evitare anche questi licenziamenti, a quanto che c'è qualche incontro a Palermo e si vedrà quello da farsi, e anche le istituzioni saranno, credo, con noi. Però è una doccia troppo amara. Ed è chiaro che ora voi chiedete un impegno immediato risolutivo da parte di chi di competenza. Ci riferiamo all'amministrazione comunale, ci riferiamo al Governo regionale. Sì, perché naturalmente io credo che sono loro quelli che onestamente possono intervenire, anche se non lo so quello che hanno in mente, che cosa vogliono fare, perché già è da parecchio tempo che questa cosa va in ballo e vedo che sempre rimbomba da una parte o dall'altra. Qualcuno dice che si deve occupare la Regione, qualcuno deve il sindacato, ma invece vedo che questa cosa sempre rimbalza. Quindi non lo so se c'è effettivamente una vera volontà per poter risolvere questa problematica. Quando siamo stati in Roma, la Lobello è stata intervistata dicendo, uscendo dal Mise, che c'era il 5%, problemi non ce n'erano. È anche vero che aveva detto che non c'erano più tre mesi, ma c'erano un anno. Ma io voglio capire, la Lobello, se questa cosa l'ha detta così tanto per far contenti a noi o in realtà ci sono questi fondi? Noi chiediamo come lavoratori o Gmimmi o un'altra società che l'Eni si mette in moto, anche un'altra società, di lavorare.